benvenuti benvenute al scuola di ipnosi oggi sarà impegnativo quindi mi raccomando se avete voglia di trarre il massimo beneficio da questi nostri incontri vi consiglio di avere sempre a disposizione come si dice carte come si diceva carta penna e calamaio l'aforisma che mi piace utilizzare meglio prendere appunti che ricevere appunti perché magari ci siamo scordati qualcosa o non abbiamo fatto bene quello che avremmo potuto fare bene perché tutto sommato non c'è nessun buon motivo per non fare al meglio quello che tutto sommato siamo in grado di fare e quindi il titolo di oggi è basta sminuirti comincia ad apprezzarti perché la l'autostima è probabilmente il più grande capitale che ognuno di noi possa avere a disposizione certo ereditare palazzi conti in banca e tante altre cosette divertenti di questo genere non è male però in attesa di avere palazzi conti in banca e tutto il resto che possiamo desiderare e che sia veramente buono per noi rinforzare la nostra capacità di riconoscerci il valore che abbiamo e soprattutto mettere a frutto tutti i talenti che abbiamo chi più chi meno chi in un campo chi nell'altro credo che sia una un esercizio utile e anche divertente perché non mi stancherò mai di suggerirvi di mettere divertimento in tutto quello che fate se pensiamo che anche nei lager quindi esperienza terrificante comunque si coniavano barzellette comunque si cercava di esorcizzare l'angoscia il terrore il dramma quotidiano cercando il lato umoristico anche nelle situazioni più più disperate il la riflessione di oggi l'auforisma che ho messo sul mio profilo di facebook è una frase di joseph addison quello che è considerato il padre del giornalismo inglese è nato nel 1672 è morto nel 1719 consulto i miei bigliettini per evitare di fare gaffa e lui diceva la lettura è per la nostra mente quello che l'esercizio fisico è per il nostro corpo quindi leggere e oggi che abbiamo tutto sommato anche la fortuna di poter vedere i film quindi grazie alla televisione non abbiamo neanche bisogno di muoverci granché per andare al cinema o vedere il teatro direi che vale la pena assolutamente di approfittarne allora che cos'è che in genere ci impedisce di scoprire e di utilizzare il nostro pieno potenziale è l'insicurezza l'ansia la paura di fallire la paura del giudizio è tutto un corredo di altre emozioni negative siamo a scuola di ipnosi quindi quale strumento migliore dell'ipnosi per governare l'ansia perché ricordatevi tutto quello che ci succede in linea di principio non è male se esiste e virgolette viene fuori vuol dire che c'è del buono ricordiamoci anche c'è del bello in ogni cosa che ci capita comunque ora fermiamoci al c'è del buono c'è dell'utile in tutto quello che ci capita il problema non è in genere la cosa in sé cioè quello che succede ma la quantità della cosa la quantità dell'esperienza perché nella vita tutto è un delicato gioco di equilibri quando qualcosa un evento una sensazione sono eccessive questo produce guai quando non sono sufficienti questo talvolta produce guai nella maggior parte dei casi non permette che si realizzino le cose che in realtà si potrebbero realizzare bene qual è il libro che vi propongo oggi il libro di oggi è un libro sull'ipnosi ovviamente ed è è stato scritto dal mio amico e collega giulio decinti risanare con l'ipnosi interattiva giulio decinti insieme a maria novella grimaldi e anna maria caire sono dei validissimi psicologi psicoterapeuti ipnotisti che su roma vi consiglio assolutamente giulio decinti vi leggo dalla quarta di copertina in modo da presentarlo un po meglio al di là della della memoria e in particolare presentare la sua ipnosi interattiva perché come si dice il fiore all'occhiello di tutti gli umani quando si avventurano e si sentono sicuri in qualche campo è di inventare qualcosa che porti se non il loro nome quantomeno porti il loro timbro ricordiamoci che nell'anno 2020 dell'era volgare dell'era cristiana e quindi con 3000 e passa anni di storia di cultura onestamente non è facile inventare cose nuove però perché no tutto come si dice può essere rivisitato ricreato anche la cucina naturalmente e quindi ognuno di noi lascia una sua impronta personale allora la definizione di ipnosi interattiva scaturisce dalla considerazione che le sue metodiche permettono all'inconscio di essere protagonista attivo dello scambio comunicativo al paziente si richiede di avvalersi del canale non verbale mentre l'ipnoterapeuta benché comunichi oralmente in nessuna fase della procedura utilizza le suggestioni con tutto il bene che voglio naturalmente a giulio decinti personalmente ritengo praticamente impossibile non suggestionare perché ogni volta che noi comunichiamo che sia a livello cosciente a livello inconscio influenziamo l'altro quindi uno dei fondamenti della pragmatica della comunicazione umana è che non è possibile non comunicare e siccome nel comunicare noi sostanzialmente somministriamo degli ingredienti virgolette nuovi all'interlocutore inesorabilmente lo manipoliamo ora il problema non è la manipolazione in sé ma che cosa ci faremo poi con la manipolazione anche il cuoco manipola gli ingredienti se Dio vuole per far uscire fuori un sapore, un gusto, una capacità nutrizionale maggiore e migliore, più bella, più gustosa dei singoli ingredienti il testo, riprendo la lettura della quarta di copertina il testo è strutturato in due parti ognuna delle quali è introdotta da una disamina teorica a cui seguono molti casi illustrati illustrativi questi ultimi, accompagnati da commenti esplicativi descrivono le procedure e documentano l'efficacia dell'ipnosi interattiva anche qui devo aprire una parentesi qualsiasi relazione umana qualsiasi forma di comunicazione è interattiva quindi dire che esista un'ipnosi interattiva è come dire che esiste una comunicazione interattiva che esiste una interazione in ogni interpersonalità in ogni incontro c'è chiaramente un'interazione uno scambio di transazioni la prima parte del volume è incentrata sul dialogo effettivo con l'inconscio l'ipnosi interattiva permette di conoscere le problematiche vere del paziente senza la mediazione delle interpretazioni le procedure conducono il paziente alla transipnotica nel momento in cui si rivolge a lui mentre è presente a se stesso chiedendogli di arrestare la risposta volontaria e attendere quella inconscia che si esprime attraverso il fenomeno ipnotico della levitazione delle braccia si solleva al destro per il sì oppure il sinistro per il no nei destrimani oppure attraverso un segnale ideomotorio per esempio portando il busto in avanti per un sì e all'indietro per un no il risultato più sorprendente si è riscontrato quando in più casi l'inconscio si è reso disponibile a seguire addirittura lo spelling cioè la computazione lettera per lettera per individuare il nome di una paura che la mente cosciente non era in grado di fornire di nuovo con tutto l'affetto che voglio al mio amico Giulio Di Cinti beh quello del dialogo con l'inconscio attraverso segnali ideomotori è qualcosa che già Stefano Benemeglio faceva 30 anni fa, 40 anni fa quindi io stesso io e Valdo Cavallaro l'ho imparato da Stefano Benemeglio e quindi come si dice in genere il fatto di non conoscere le fonti ci fa pensare di essere gli inventori di qualcosa che invece qualcun altro già utilizzava da molto tempo una delle tecniche più fantastiche è poi tra l'altro per esempio il cosiddetto ring test da fare sia in ipnosi sia da svegli attraverso l'unire le dita delle mani è un test che ormai viene usato comunemente anche per verificare se un certo alimento ti possa fare bene o male ma io lo uso lo usavo lo uso fondamentalmente per verificare la coerenza tra mente cosciente e mente inconscia perché il vero problema non nasce dalle cose in sé i veri problemi esistenziali nascono dall'incoerenza tra quello che almeno a parole vorrebbe la mente cosciente e quello che invece sostanzialmente l'inconscio ha imparato a fare perché noi stessi gliel'abbiamo insegnato attraverso la ripetizione quindi a parole noi potremmo voler dimagrire ma l'inconscio che ha imparato dai fatti cioè dalla coerenza fattuale operativa della nostra vita magari ha imparato che a noi piace abbuffarci in ogni situazione e quindi tra quello che noi diciamo di volere a livello cosciente e quello che l'inconscio ha imparato attraverso le ripetizioni di comportamento che noi gli abbiamo dato beh, lui non ha dubbi la verità è nei comportamenti reali non nelle chiacchiere che diciamo lo stesso può valere per chi per esempio dica di voler smettere di fumare sì se dici di voler smettere di fumare però al tempo stesso sogni sempre la sigaretta l'inconscio capisce che fumare ti piace e vuoi continuare a farlo tornando a noi la seconda parte del libro di Giulio De Scinti continuo sempre a leggere la quarta di copertina descrive le metodiche utilizzate per operare il risanamento nessuna delle quali si avvale delle suggestioni e qui come ho già detto sono costretto a dissentire sia pure affettuosamente da Giulio De Scinti perché non è possibile non suggestionare ricordiamoci non è possibile non comunicare e siccome ogni comunicazione è manipolazione non è possibile non manipolare e allora il mio suggerimento è tanto vale imparare a farlo bene a farlo bene significa in armonia con i nostri obiettivi ma anche possibilmente in armonia con gli interessi profondi reali dell'altro perché i problemi nella vita di relazione nascono dal fatto dell'egoismo cioè dal fatto che io voglio il mio interesse senza tenere conto dell'interesse dell'altro ma se invece io cerco di soddisfare anche l'interesse dell'altro anzi addirittura aiutarlo a trovare il suo interesse e magari l'altro fa la stessa cosa con me ma tutti viviamo decisamente meglio ecco la realizzazione del paradiso in terra cieli nuovi e terra nuova allora si dice De Cinti si ritiene che il cambiamento avvenga essenzialmente nell'inconscio il quale è distinto in due parti sano e non sano il percorso terapeutico consiste nel rafforzare la parte sana e nel depotenziare quella non sana il ristannamento lo effettua l'inconscio sano chiamato a farlo durante lo stato di trance che si attiva mentre il paziente è presente a se stesso e gli si richiede di non fare nulla di intenzionale a parte che per quanto noi chiediamo al soggetto in ipnosi di non metterci niente di volontario e di cosciente onestamente non è facile riuscire a bloccare tutta la parte cosciente ci sarà sempre è il concetto dello yin e dello yang è il concetto della veglia e del sonno non sarà mai grazie a Dio possibile eliminare la parte cosciente come non sarà mai possibile eliminare la parte inconscia cioè fino a quando siamo vivi ricordatevi la figura dello yin e dello yang per quanto tu cerchi di dividere a metà il simbolo dello yin e dello yang rimarrà sempre un pezzettino dell'altro che è esattamente quello che grazie a Dio succede anche nella nostra vita quando noi ci risvegliamo la mattina è perché comunque per quanto possiamo essere entrati in sonno profondo una parte di noi è rimasta comunque sempre sveglia e pronta a riprendere il controllo dall'altro lato però per quanto noi possiamo essere svegli attivi impegnati c'è una parte di noi più o meno vasta che invece è virgolette addormentata cioè distratta la qualità della buona vita dipende proprio dalla capacità di far alternare armoniosamente queste due parti di noi tornando a decenti una procedura efficace è stato quello di proporre all'inconscio di continuare il risanamento nei giorni tra una seduta e l'altra senza che al paziente a livello cosciente sia richiesto di fare alcunché beh la suggestione che noi usiamo da 40 anni e passa naturalmente la suggestione standard è quando vai a dormire e mentre il tuo corpo dorme e la mente cosciente si riposa lascia che il tuo amico inconscio continui a lavorare sul problema continui a lavorare sulle soluzioni conclude De Cinti è possibile verificare i risultati che si possono ottenere con l'ipnosi interattiva nei video del canale youtube a nome Giulio De Cinti oppure dal sito psicologia multifattoriale poi ci sono poche righe di presentazione di Giulio De Cinti Giulio De Cinti esercita l'attività di psicoterapeuta a Roma ha pubblicato per le edizioni universitarie romani i testi tipi umani modalità stili modelli interattivi della psicologia multifattoriale e ha pubblicato anche modi sani e non sani di essere conoscere se stessi e gli altri ha fondato l'associazione psicologia multifattoriale che ha le finalità di approfondire e diffondere le sue teorie di psicologia multifattoriale le sue metodiche di ipnosi interattiva e organizzare corsi di formazione su questi argomenti sono contento di presentare presentarvi l'amico Giulio De Cinti e buona vita anche a lui e buon lavoro bene oggi vorrei proporvi invece un mio decalogo così per in un delirio di onnipotenza insomma anch'io propongo un decalogo un decalogo anti-ansia per una riprogrammazione positiva della propria vita l'ho ritrovato in un mio vecchissimo articolo ma sostanzialmente è sempre valido quindi se ne avete la possibilità vi consiglio ora di mettervi un attimo comodi e di chiudere gli occhi tanto leggerò queste queste brevi istruzioni augurandomi insomma che siano utili per voi poi ricordatevi alla fine ci sarà anche il grande balzo in avanti perché dopo 0 1 e 2 passeremo a 3 e 4 quindi sarà una bella cosa e dopo trotto la pancia e l'ama ci sarà tutta un'altra serie di cose sarà ripeto divertente e scoprirete delle potenzialità dentro di voi che non potevate immaginare e che miglioreranno notevolmente l'umore la qualità della vostra vita personale di relazione e soprattutto so che siete per gran parte interessati a questo di seduzione di seduzione io sempre vi ricordo meglio sedurre per amore che sedurre in maniera predatoria però voglio dire in termini di pura esercitazione fate quello che vi vale allora il decalogo anti-ansia per una riprogrammazione positiva della propria vita ecco un semplice programma scrivevo allora di almeno tre settimane perché ci vuole un po' di tempo per far automatizzare le cose nel senso che gli apprendimenti immediati istantanei nel bene e nel male possono avvenire soltanto in conseguenza di sciocche emozionali allora sì l'apprendimento anzi tante volte vi ho detto le fobie in fondo sono un esempio di apprendimento in un'unica esperienza ma gli apprendimenti veri quelli di lungo termine quelli armoniosi sereni che si integrano perfettamente nella nostra vita richiedono un certo tempo allora ecco un semplice programma di almeno tre settimane da svolgere possibilmente tre volte al giorno appena svegli durante il giorno in una pausa insomma che troverete nella vostra vita e comunque invece importantissimo prima di andare a dormire come dire se invece di farlo tre volte al giorno che sarebbe l'ideale potete farlo soltanto una volta al giorno fatelo la sera prima di andare a dormire se potete addirittura farlo due volte il consiglio migliore è fatelo la sera e anche la mattina se potete farlo tre volte beh perfetto allora diventerete veramente persone eccezionali degne non soltanto del creatore ma insomma anche degne di aver seguito questi miei incontri qui su youtube allora il tempo saranno non più di dieci minuti ogni volta dieci quindici minuti è proprio un tempo vastissimo è importante però che questo allenamento sia basato sulle immagini mentali sulla visualizzazione creativa sull'autipnosi naturalmente e il training autogeno perché questo è lo strumento fondamentale allora primo punto mettetevi comodi con gli occhi chiusi e senza permettere che eventi esterni disturbino la vostra concentrazione ed il vostro rilassamento due respirate a fondo lentamente cominciando nel contempo a visualizzare davanti a voi un grande schermo bianco vuoto tre su questo grande schermo cominciate a proiettare un film con le scene della vostra vita come vorreste che fossero con voi come protagonisti tra un'ora un giorno un mese un anno date voi la scadenza quattro cercate di vedere ascoltare dire sentire gustare provare toccare con mano vivere immaginativamente con tutti i vostri sensi durante questo film quello che vorreste che vi accadesse o che vorreste divenire capaci di fare o di diventare o come vorreste già essere divenuti capaci di comportarvi quindi un bel film mentale cinque non preoccupatevi assolutamente di come farete a realizzare i vostri desideri semplicemente immaginate con tutto il vostro essere di averli già realizzati questo è molto importante non preoccupatevi del come farete il vostro inconscio ha soltanto bisogno che voi gli facciate capire quello che volete poi ci penserà lui a trovare le risorse che già avete o a focalizzare indirizzare la vostra attenzione per scoprire le cose che vi servono per realizzare ciò che desiderate e che sia veramente buono per voi mi raccomando 6 cambiate cambiate pure le scene dei vostri possibili obiettivi e desideri fino a quando non avrete trovato veramente ciò che desiderate allora e solo allora stringete il pugno proprio stringete il pugno della vostra mano la destra la sinistra anche tutti e due insomma come per afferrare magicamente quell'immagine quel momento quella felicità quella sicurezza 7 mantenendo il pugno stretto con tutta la forza del vostro desiderio mantenete il pugno stretto con tutta la forza del vostro desiderio fino a quando non vi sembrerà veramente di aver fatto entrare dentro di voi quell'immagine bella quella sensazione di sicurezza e di benessere quella rassicurazione sul vostro successo quanto tempo fino a quando vi sembra di averla interiorizzata 8 a questo punto rilassatevi facendo un profondo respiro aprendo dolcemente il pugno della vostra mano e ripetendovi mentalmente una frase del tipo io ce la faccio io sto benissimo io ci riesco oppure giorno per giorno sotto ogni aspetto la mia vita migliore oppure io sono la persona più importante del mondo e vivo in perfetta armonia con tutte le persone e le situazioni che mi circondano oppure dentro di me ci sono veramente enormi risorse e tutto ciò che io desidero e che sia veramente buono per me nel giusto tempo io lo ottengo mi raccomando nel giusto tempo è inutile mettere fretta perché perché i risultati si ottengono dall'applicazione cioè dall'impegno dal fare le cose giuste per il tempo giusto se ancora non avvengono vuol dire o che non abbiamo fatto le cose giuste e allora cerchiamo di farle oppure che non è ancora arrivato il tempo perché maturino i risultati quindi tutto ciò che siamo sicuri di aver fatto bene è solo una questione di tempo è importante che vi ricordiate questo nove ripetete le sequenze che vi ho elencato in precedenza per tutto il tempo che desiderate ma almeno per dieci minuti dieci quindici minuti sono assolutamente sufficienti dieci quindi l'ultimo punto ora se l'esercizio di riprogrammazione positiva è quello del mattino o quello durante la giornata riaprite dolcemente gli occhi e sorridendo streggete il pugno della vostra mano dicendo possibilmente ad alta voce io sto benissimo io ce la faccio io sono perfettamente calmo calma padrone di me in ogni situazione ricordatevi che pubblicherò metterò sul mio gruppo di facebook audio video ipneubiotici di Evaldo Cavallaro questo decalogo lo farò probabilmente stasera insomma stanotte non sono sicuro di poterlo fare subito comunque vi suggerisco se non l'avete già fatto di chiedermi l'amicizia su facebook e possibilmente di iscrivervi al gruppo audio video ipneubiotici di Evaldo Cavallaro proseguo iniziando così o continuando nel modo migliore la vostra giornata lavorativa o di svago se l'esercizio invece è quello della sera semplicemente lasciatevi addormentare sull'immagine bella del vostro desiderio già realizzato di voi già trasformati del problema già risolto delegando in tal modo al vostro amico inconscio il compito di lavorare durante la notte attraverso i sogni i ricordi e tutte le esperienze utili accumulate nella vostra vita per trovare il modo migliore per realizzare i vostri desideri o per risolvere i vostri problemi pensate che questo io l'ho scritto 30 anni fa insomma quindi mi fa piacere che l'amico Giulio De Cinti ci suggerisca di lasciare lavorare il nostro inconscio ma è un problema della gioventù naturalmente ecco perché avere 75 anni per certi aspetti è meglio che averne di meno si ha meno l'illusione di avere inventato qualche cosa se invece ah no scusate proseguo sempre io vi assicuro che se eseguirete quotidianamente con costanza sotto ogni latitudine e a qualunque altitudine impegni di servizio permettendo questi semplici esercizi accadrà veramente che le vostre ansie ingiustificate spariranno le tensioni inutili si scioglieranno e giorno per giorno sotto ogni aspetto la vostra vita migliorerà in armonia con voi stessi e con tutte le persone e le situazioni che vi circondano e al tempo stesso tutto ciò che voi desiderate che sia veramente buono per voi lo otterrete perché dentro di voi ci sono enormi risorse di energia che non chiedono di meglio che di essere impiegate positivamente per il vostro benessere e il vostro successo insomma voi ce la farete parola di psicologo dicevo all'epoca perché ecco le metafore i riferimenti che ho fatto per esempio a qualunque latitudine e a qualunque altitudine perché questo era un articolo appunto sulla gestione dell'ansia della rubrica psicologia e qualità della vita che ho scritto per la rivista dei naviganti aerei cioè piloti assistenti di volo tecnici di bordo proprio su come gestire l'ansia l'ansia come risorsa l'ansia come nemica comunque ve lo pubblicherò entro questa sera sul mio gruppo audio video ipneobiotici di Evaldo Cavallaro su facebook allora torniamo invece a noi vi ricordate abbiamo detto che da qui all'eternità per motivi che ancora non vi posso spiegare e qui è importante che prendiate carta, penne e calamaio vi ho proposto il metodo delle schede mentali il metodo della conversione alfanumerica il metodo del PAV cioè di mettere nelle immagini mentali che servono a costruire le schede mentali paradosso esagerazione attività movimento e vividezza quindi una plurisensorialità visivo uditivo tattile olfattivo cenestesica e così via che sostenga le schede mentali la prima abbiamo detto è zero da qui all'eternità uguale ai suoni base s z sh e all'immagine mentale zio quindi la scheda mentale per lo zero è zio questo zione esagerato uno t d te questo te assurdo esagerato coloratissimo puzzolente grandioso appiccicoso due n n noe un noe da immaginare come un punk come una rock star che accoglie gli animali sulla sua arca e oggi passiamo addirittura al numero tre tre il suono base per il tre è m m e la immagine corrispondente è l'amo l'amo da pesca l'amo con cui prendono i poveri pesciolini quindi un amo esagerato un amo colorato un amo piccolino un amo che vi ha fatto male al dito cioè dovete collegare il tre la cifra tre all'immagine mentale dell'amo e al suono base m quindi zero s z zio uno t d te due n noe tre m amo però ormai avete già cominciato a capire il gioco per cui oggi vi propongo anche il quattro quattro da qui all'eternità corrisponderà al suono base r e all'immagine alla scheda mentale all'immagine del re un re che urla un re scusate l'espezione che rutta un re esagerato un re piccolissimo un re nano un re gobbo un re su un trono altissimo un re vestito da buffone quanto più movimento paradosso azione e vividezza metterete nelle schede tanto più queste associazioni si fisseranno nel vostro amico inconscio quindi carta penna e calamaio per ora basta nel senso che vi dovete esercitare cioè dovete imparare la memoria questo all'inizio è l'impegno ma se avrete messo pav nell'immagine mentale il vostro amico inconscio non ci mette niente ad associare perché l'inconscio funziona per catene associative e impara rapidamente quando è davanti a qualcosa di emotivamente coinvolgente infatti i sistemi fin dall'antichità tradizionali per insegnare rapidamente le regole sono sempre stati la gratificazione e la penalizzazione la gratificazione è il dolcetto la penalizzazione è la la bastonata insomma scherzetto dolcetto insomma per dire oppure bastone carota oppure mazza e panelle insomma e così via quindi gratificazione e penalizzazione ma in termini in questo caso ci servono soltanto come emotività quindi la plurisensorialità quanto più pav possibile nel costruire le immagini mentali ora invece vorrei che prendesse sempre carta penna e calamaio per scrivere questa sequenza di parole perché poi vi chiederò di fare qualcosa allora le prime tre ve le ho già proposto la volta scorsa e sono trottola quindi vi do il tempo di scrivere trottola pancia lama lava trottola pancia lama lava buca piumino muffa regina cero cero mamma fiamma nuca palazzo neve frutta frutta pacco doccia bomba ve le ripeto nella stessa sequenza trottola pancia lama lava buca buca piumino muffa regina cero mamma fiamma nuca palazzo neve frutta pacco doccia bomba se le avete scritte tutte quante nella sequenza che vi ho dato vi suggerisco ora di voltare pagina in modo che non vediate l'elenco e scrivere tutte quelle che vi vengono in mente tutte quelle che vi ricordate senza preoccuparvi senza assolutamente barare cioè senza guardare l'elenco precedente provate a scrivere quelle che vi vengono in mente possibilmente nello stesso ordine bene scrivete controllerete dopo quelle che avete ricordato se l'avete ricordata nel modo giusto quello che è ora invece vi chiedo di cambiare pagina di nuovo quindi una pagina assolutamente bianca e di mettervi comodi chiudendo dolcemente gli occhi e immaginando esattamente quello che io vi proporrò potrete soltanto aumentare l'intensità del PAV che ognuno di voi metterà in quello che io ora vi dico di immaginare quindi io vi do una traccia ma ognuno di voi la riempia come dire ognuno di voi faccia il suo film mentale individuale allora mi raccomando ora ad occhi chiusi sentite la mia sequenza immaginate una trottola enorme coloratissima assurda anche un po' strana sbilenca che gira vorticosamente e va a saltare proprio sulla vostra pancia facendovi un grande dolore e a quel punto per cercare di lenire il dolore che state provando afferrate una lama e vi aprite la pancia dalla vostra pancia esce un fiume di lava quindi la trottola è andata a sbattere contro la vostra pancia vi ha procurato dolore per cui voi avete usato una lama per aprire la pancia da cui è uscita lava esce tantissima lava incandescente che va a finire dentro una buca dentro una buca e voi cercate di coprire questa buca con un piumino un piumino ma il contatto di questo piumino sulla buca dove c'era la lava che fuoriuscita dalla vostra tramite la lama dalla vostra pancia in conseguenza della trottola produce un bruttissimo odore di muffa bene voi offrite questa muffa alla regina la regina d'Inghilterra la prima regina che vi viene in mente quindi vi ripeto la storia la trottola ha sbattuto contro la vostra pancia voi con una lama avete aperto la vostra pancia da cui è uscita della lava che va a riempire una buca su cui voi mettete un piumino che produce muffa e voi regalate questa muffa alla regina la quale invece di sbattervi in galera nella torre di Londra la regina vi regala un cero che voi offrite a vostra mamma la quale immediatamente lo accende con una fiamma appoggiandolo sulla nuca e cominciando magari a danzare a ballare al punto che il cero cade e incendia l'intero palazzo per fortuna scende abbondante la neve che oltre a spegnere l'incendio appena tocca terra si trasforma in frutta frutta che voi vi affrettate a raccogliere in un pacco ma siccome il pacco è un po' sporco decidete di metterlo sotto la doccia ma appena aprite il rubinetto della doccia bomba scoppia tutto quanto quindi di nuovo ancora siate ad occhi chiusi vi ripeto la storiella però voi mettetela createla filmatela come volete come vi sentite una grande trottola sbatte contro la vostra pancia che voi aprite usando una lama ne esce tanta lava che va a riempire una buca che voi coprite con un piumino che però produce una grande disgustosa muffa che voi gentilmente offrite alla regina che in cambio vi regala un cero che voi vi affrettate a donare a vostra mamma la quale accende la fiamma e se l'appoggia sulla nuca e danzando vorticosamente manda a fuoco un palazzo brucia il palazzo per fortuna scende la neve che oltre a spegnere toccando terra diventa frutta frutta che voi vi affrettate raccogliere in un pacco e a lavare sotto la doccia ma appena provate ad aprire la doccia scoppia la bomba bene ora riaprite gli occhi e ancora una volta vi proporrò la sequenza non fate ancora nulla riascoltate semplicemente la sequenza trottola pancia lama lava buca piumino muffa regina cero mamma fiamma nuca palazzo neve frutta pacco doccia bomba bene ora prendete il foglio non guardate tutto quello che avete scritto e provate a riscrivere ora la sequenza attenzione non affidatevi alla memoria ricostruite tutto il filmino che io vi ho proposto e che voi avete naturalmente migliorato personalmente scrivete la sequenza delle parole che vi ho elencato però attraverso la catena delle associazioni che vi ho proposto grazie a tutti mi raccomando non andate a riguardare le pagine precedenti quello che scrivete scrivete avrete tutto il tempo per per valutarvi bene qualunque cosa abbiate scritto ora vi do un ultimo compito per esempio io ora vi proporrò la stessa sequenza però all'inverso quindi voi non dovete scrivere niente semplicemente ad occhi chiusi dovete sentire quello che io vi dirò ora bomba doccia pacco frutta neve neve palazzo nuca fiamma mamma cero regina muffa piumino buca lava lama pancia trottola bene se avete se siete stati capaci come molto probabile che siete stati capaci di fare tutta la sequenza da trottola a bomba senza errori molto probabilmente sarete capaci di riscrivere tutta la sequenza inversa da bomba a trottola perché se siete riusciti a collegare immaginativamente paradossalmente assurdamente giocosamente una parola all'altra e quindi tutta la catena di parole per quanto siano parole apparentemente slegate senza senso abbiamo costruito un legame del tutto artificiale paradossale attivo appunto vivido il famoso PAV direi che avrete scoperto che dentro di voi ci sono veramente enormi risorse e questo è niente perché la sorpresa vera vi arriverà ad uno dei prossimi incontri quindi vi ringrazio intanto per l'attenzione vi raccomando esercitatevi portatevi sempre dietro carta penna e calamaio e vi ripeto le cose su cui in questi giorni dovrete esercitarvi le schede mentali zero s z sch zio uno t d te due n noe tre m amo quattro r re e questo come schede mentali mentre la sequenza che vi raccomando di imparare memoria ma non come esercizio di memoria come ci hanno costretto a fare sempre a scuola fin dall'elementari uno sforzo di memoria no 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 dobbiamo fare un gioco di memoria costruendo queste storielle assurde e bizzarre che colleghino una parola con l'altra quindi ve lo ripeto di nuovo trottola pancia lama lava buca piumino muffa regina cero mamma fiamma nuca palazzo neve frutta pacco doccia e bomba grazie per l'attenzione per la pazienza e soprattutto per la fiducia che continuerete a mostrarvi non ve ne pentirete vi ringrazio ancora buona vita ottima memoria ma giusta memoria per ricordare quello che volete ricordare perché è non tutto ma ricordare quello che valga la pena di ricordare perché per esempio quando facciamo le sedute di ipnosi regressiva al risveglio cioè la suggestione l'ultima suggestione che diamo prima del risveglio dall'ipnosi è e lascia che il tuo amico inconscio si ricordi di farti dimenticare tutto ciò che per te sia meglio non ricordare e lascia oppure lascia che il tuo amico inconscio si dimentichi di farti ricordare tutto ciò che per te sia meglio dimenticare perché nella vita è come per tutte le cose della vita ci sono alcune cose che vale la pena continuare a portarsi dietro e altre cose che invece come le zavorre conviene abbandonare anche la zavorra è utile ma è utile se siamo in grado di abbandonarla nel momento in cui non ci serve più se siamo costretti a portarcela dietro non è più una zavorra è un impedimento non una cosa utile che ci potrebbe salvare la vita nel momento del bisogno buona vita e ottimi ricordi grazie ancora grazie a tutti